Musica Vasto incendio martedì pomeriggio a Bagli Alpino, infiamme un terreno non lontano dalla stazione di servizio autostradale. L'incendio ha l'ambito alcune abitazioni e capanni vicini, coinvolta una casa in ristrutturazione, minacciata anche un'azienda della zona. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Arezzo assieme ai volontari per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. In allerta anche i pompieri di Bibiene del distaccamento di Prato Vecchio. L'incendio è partito nel pomeriggio dalla zona Parazzina e l'intervento è stato reso difficile dal vento caldo e dalla secca vegetazione. In fumo campi di sterpaie che costeggiavano la ferrovia. Ancora non si conosce l'origine del rogo.